Siamo arrivati così a questo traguardo che è veramente una festa anche per tutti coloro e per fortuna sono tanti che fanno politica perché vogliono bene alle persone, come diceva Lapira. Quindi questo è un momento che deve essere anzi un impegno a fare in modo che nel mondo cristiano, ma più in generale tra tutte le persone umane, tra tutti i cittadini, ci si renda conto che la politica non è un optional, che è il dovere di tutti quello di fare in modo che l'ingiustizia e il tasso di ingiustizia che c'è nel nostro mondo venga in qualche modo ridotto. Quindi ciascuno deve fare la sua parte nel suo ambito, che sia un ambito di preghiera, un ambito di azione concreta anche nel lagone politico. Lapira scriveva la politica è un impegno di umanità e di santità. È un po' quello che ricordava Papa Francesco quando diceva bisogna impegnarsi per la politica con la P maiuscola.